salve a tutti i paranoici e bentornati su paranoia channel oggi vedremo 5 avvistamenti di fantasmi nei cimiteri non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nostro video ora cominciamo in questo video girato da due ragazzi in un cimitero in messico si può chiaramente vedere accanto a una lapide il fantasma di una ragazza no seas idiota, che è questo no, non è mai logico una leña llorando in un cementerio in las 12 di la bene anino in una Se prestate attenzione si può chiaramente vedere una strana presenza alle spalle dell'uomo. La strana presenza alle spalle dell'uomo. In un cimitero in Bulgaria davanti a una cappella si materializza quello che sembrerebbe un fantasma. La strana presenza alle spalle dell'uomo. Questo video girato da un gruppo di ghost hunter in un cimitero in Georgia ha ripreso quello che sembrerebbe il fantasma di un bambino correre. In questo video amatoriale girato da dei ragazzi in un cimitero si può notare una strana donna camminare tra le lapidi per poi sparire improvvisamente. La strana presenza alle spalle. La strana presenza alle spalle. La strana presenza alle spalle dalla prova dell'uomo. La strana presenza non si trateate alla 하면서. Si non si trateate a3i, quella che sapeteuu. nameè è fatale. Neiada da2i sur What the fuck? Yo, I see, yo, where the blunt at? Pass the blunt. Pass the fucking blunt. I cannot, nah. She, yo, she was blown in you. Did you see how she tripped over that tombstone? She landed on a tombstone. On it, on her head. And she planned this. Yo! There's no way the fuck she planned this, boogie. Yo! She ain't answering nobody. She ain't looking at us. Yo, girl, all white! Yo, girl, all white. You're scaring me! You're really scaring me! You're scaring the shit out of me! Yo! You're scaring the shit out of me! Go home! Go home! Yo, boogie. Yo, boogie, she gonna come back. And she gonna be sitting right in front of your house, nigga. And I'm gonna pop her ass. Yo, she ran through the cemetery and was walking. Yo, I wish I still had that BB gun. Yo, you gotta let her go. Maybe she's, like, hurting or something. Why was she running that fast, though? But why she just stopped and took someone else's flower, nigga, from there? Look, she's swinging it! She's having fun, B! Yo, I'm gonna have to go karate kick this bitch. Yo, this is the creepiest shit that I've ever seen in my life. Yo, my nigga, yo, bitches had a picnic in there the other day. Fuck a picnic, nigga. She has all white and she's running and jumping on people's tombstones. Yo, 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 yo No, 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 no No, 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 no Boogie where the fuck did she go She went behind that tombstone right there I got the camera on the tombstone Because I see when she went Is that her? No, that's a tree No, nigga, she went behind the fucking tombstone That one God damn it, I can't even point out which one, nigga I'm gonna try to point out It's that one And you can see where my fingers at She went behind that tombstone Right there, right in front of my finger Yo, we're moving Nigga, she went behind the tombstone And she's gone, nigga Nigga, fuck that I'm done, I'm done I'll record again when this bitch Comes back out behind the tombstone E anche per oggi è tutto Se vi va, lasciate un mi piace Un commento E iscrivetevi al canale E veniteci a trovare Sulla nostra pagina Facebook Trovate il link in descrizione Ci vediamo alla prossima Mie paranoici Ciao 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 Ciao